Un vuoto solo oggi! Grazie, grazie. Va bene. Non sono vestito così per motivi di lavoro, ma per motivi di privacy. Non voglio che la gente veda come sono vestito, perché risalendo al marchio degli abiti, allo stilista, allora capisce quanto spendo, quanto guadagno, dove mi vesto, cosa mi piace, capisce i miei gusti, poi mi mandano la pubblicità sui social, è un casino, mi dà fastidio. Perché da uno in Sicilia la privacy non esiste. Se uno in Sicilia è un po' riservato, scatta l'indagine del comune, del paese. Tutti vogliono sapere che fai, quanto guadagni, che malattie hai, da che famiglia vieni, i tuoi figli, tua moglie, i tuoi soci, vogliono sapere tutto. Da noi praticamente, se uno stende bucato, c'è la dirimpe te che fa l'inventario. Dove asciugamano bianche ce l'aveva. La tovaglia è rossa, l'ha comprata a Natale. L'ha accappata in blu, ha comprata adesso, hai visto? E poi dici che non c'hai i soldi. Da noi in Sicilia se ti porti la mignotta a casa alle due di notte, fai tutto in silenzio, sai, parcheggi, non si batte gli portelli, togli le scarpe quando andai nel portone, adaggi il portone, così. Alle due e un quarto lo sanno tutti, tutto il condominio. Se ti scassa un appartamento a mezzogiorno con il martello pneumatico, nessuno ha visto niente. La privacy funziona su tutto, tranne sulla mafia. Hanno arrestato a Matteo Messina Denaro adesso, qualche tempo fa. Dopo trent'anni di indagini, hanno scoperto che era a casa sua. Bastava mandargli le raccomandate, il signo di postino lo trovavano. Lui pure ha aiutato le forze dell'ordine. Si è vestito come era nella foto dell'identikit. Metti che non mi riconosco, gli vado incontro, gli aiuto. A Milano invece la privacy funziona perfettamente, tutto riservato, tutto nascosto. E a Milano sono andato a fare l'analisi del sangue, ti fanno il prelevo, ti hanno il biglietto 141. Dopo tre giorni torni con il biglietto 141, hanno la busta 141, perfettamente sigillata, con la ceralacca. Il referto lo vai a aprire dal notaio, tutta una cosa... Da noi in Sicilia va a fare l'analisi del sangue, dopo tre giorni torni là, c'è l'invermiera, c'è la saletta, ci conosciamo tutti nel paese. Esce l'invermiera con tutti i fogli in mano, senza busta e senza niente. Di Stefano Carmelo, ah ciao, tu sei, ci rosa epatica, ciao. Che bello condividere tutte le informazioni, mettere la corrente della collettività, delle malattie che ci sono nel paese, di tutto quello che succede in giro. A Milano vai alla posta, va a pagare un bollettino, a tre metri dallo sportello c'è la striscia gialla per la privacy. Se mentre un milanese sta pagando un bollettino, tu metti i piedi sulla striscia gialla a tre metri dallo sportello per la privacy, il milanese si incazza. Signore, vado indietro, percorrere, si faccia i fattisori, non mi opprivo, non mi soffochi. Si faccia i fattisori, vado indietro, hai visto la striscia? Stia dietro, va cazzo. Da noi in Sicilia c'è uno che sta pagando un bollettino, tutto il pubblico dietro. Gente che non si conosce, gente che non si è mai vista, ti fanno pure domande. Grazie, 150 euro di corrente stai pagando? Quello che sta pagando, mica ti sei fatti i fatti tuoi. Ti spiega perché sta pagando 150 euro di corrente? A proposito di posta, c'ho due bollettini qua che mi sono arrivati in questi giorni, uno è quello verde che conosciamo tutti, Equitalia. Equitalia è brutto, quando arriva Equitalia è una reggedia, mette sempre tensione nelle famiglie. Io quando arrivo il bollettino di Equitalia lo lascio là sul tavolo una settimana, che ritrovare il momento propizio per aprirlo, il favore degli astri, che può essere una cosa, una tassa da 50 euro fino a 20.000 euro, non so che succede, che c'è, a busta jolly. E ora stai ogni tanto, passa, guarda, cazzo ancora l'hai a busta. La mattina ti svegli a fare colazione, cazzo, guarda come guarda, vuole essere aperto, ma io non ti apro. Poi un giorno ti senti il tuo giorno fortunato, oggi l'apro, puoi aprire la busta e c'è un rimborso, di 2 euro e 50. Che già è una buona notizia che non c'è da pagare, però la cosa saggia, quando c'è un rimborso di 2 euro e 50, sarebbe strappare tutto, buttarla nella spazzatura e va a fanguolo. Io Equitalia da casa mia distante 30 km, già solo di benzina ci rimetto. Poi una volta ci sono passate le 5 del mattino, c'erano già 40 persone in fila. Però che succede? È come quando dovevo dargli io 1,80 euro, mi hanno mandato 18 raccomandate. Adesso i 2,50 euro li voglio, cazzo. A guerra e guerra. Faccio questa, la Tari, non so se la pagate voi. Allora, io col lavoro che faccio sono sempre fuori, a cena, in giro per lavoro. Ogni tanto faccio la spesa sul mercato, al suo mercato, mi è arrivato 800 euro di Tari di spazzatura da pagare. Lì ho fatto i conti, faccio la raccolta dei bollini, ho fatto i conti, nel 2022 ho fatto 650 euro di spesa. Cioè, 150 euro in meno di Tari. Cioè, o al suo mercato mi hanno venduto più spazzatura che roba da mangiare, o c'è qualche pezzo di merda che butta in spazzatura in nuovo vino. Vabbè, grazie a tutti. Golani, cazzoppo! Grazie.